signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale terzo appuntamento con la rubrica dello scrivere una quest questa settimana andiamo a parlare delle linee narrative orizzontali ne abbiamo già parlato due settimane fa in teoria questa settimana vediamo di mettere le cose in pratica prima di andare avanti voglio nuovamente ringraziare tutti quelli che hanno contribuito mandando le loro proposte senza di voi questa rubrica non potrebbe esistere quindi vi ringrazio sia nome mio sia nome di tutti quelli che seguono la rubrica ma non hanno tempo non hanno la possibilità di inviare le loro proposte e che quindi grazie a voi possono andare avanti a seguirla anche questa volta sono arrivate un sacco di proposte ma questa volta mi sono fatto furbo e il video coi commenti a tutte le proposte dovrebbe essere uscito la settimana scorsa dico dovrebbe perché nel momento in cui io vi parlo il video l'ho già finito di creare di montare di renderizzare ma youtube mi sta dando dei premi di caricamento quindi non so se sono riuscito a metterlo in linea abbastanza in tempo se non ce l'ho fatta lo vedrete durante questa settimana detto questo non perdiamo tempo andiamo a parlare del soggetto nello scorso video della serie abbiamo parlato dell'idea iniziale cioè delle idee fondamentali che ci servono per dare un senso alla storia e per avere un riferimento quando andremo a scriverla ora che tutti gli elementi che ci servivano li abbiamo decisi possiamo andare avanti e concatenarli tra di loro questa settimana cominceremo a lavorare sulle linee narrative vere e proprie cominciando ovviamente dalle linee narrative orizzontali prenderemo gli elementi che sono stati decisi li metteremo assieme per formare una sorta di breve racconto che dovrebbe illustrare in maniera più chiara e schematica possibile quella che dovrà essere la storia vera e propria della quest questo è quello che in termini tecnici è chiamato il soggetto questo normalmente è ritenuto uno dei passaggi più difficili ma in realtà io ho buonissime aspettative perché non so se volontariamente o meno ma la maggior parte delle proposte che mi avete inviato finora le avete già inviate in forma di soggetto quindi immagino non ci saranno molte difficoltà prima però andiamo a vedere quali saranno effettivamente gli elementi del nostro racconto per quanto riguarda le fazioni quelli che hanno ricevuto più voti sono stati Gianni Augurale e Karstein ed entrambi hanno inteso le fazioni come veri e propri partiti politici all'interno della città ognuno di loro ha inteso questi partiti in maniera diversa ma mischiando le loro idee assieme prendendo spunto anche da quello che hanno detto altri otteniamo tre fazioni principali i meccano baroni che sono una lobby di interesse palesemente transubanista che mira a diffondere il più possibile nella popolazione impianti e protesi cibernetiche e su cui girano anche delle voci che in qualche modo le persone che hanno ricevuto i loro impianti possano essere mentalmente controllate la gilda della magia un gruppo reazionario di incantatori arcani una sorta di accademia o scuola di magia controllata dai maghi più anziani e potenti che cerca di accaparrarsi il controllo totale su quella che è la magia arcana in base a quella che è l'antica tradizione della magia e infine i puri un partito populista che si rivolge a chi non ha poteri magici a chi non fa uso della magia nella vita quotidiana ma dietro cui girano delle voci che siano in qualche modo collegate alla criminalità organizzata e persino che alcuni attentati attacchi terroristici che sono stati recentemente mossi ai danni delle altre fazioni in realtà siano in qualche modo stati organizzati o sovvenzionati dai puri in pratica la contrapposizione dei tre gruppi si può riassumere in magia moderna contro magia all'antica contro nessuna magia sicuramente le fazioni dovrebbero essere espanse e dovrebbero essere rese più caratteristiche bisognerà poi decidere dei png ma per ora ci basta sapere questo sono immediatamente comprensibili ai giocatori sono molto facili da presentare e nessuna delle tre sembra essere palesemente preferibile alle altre tra l'altro tutte e tre hanno dei toni di grigio che si rifanno all'estetica dungeon punk che è quella che dobbiamo tenere conto come stile è la nostra ambientazione tutti tranne gianluca vecchi e carstein credo hanno proposto che il tipo di delitto commesso sarebbe dovuto essere un omicidio e quindi sarà un omicidio un grande classico del racconto giallo la maggior parte dei racconti gialli gira dietro l'indagine per un omicidio per come sono andate le votazioni sull'idea a quanto pare l'idea che è stata preferita è che la vittima fosse un alto funzionario del governo della città che sia stato ucciso in circostanze misteriose a pochi giorni da un'importante votazione per quanto riguarda un'ordinanza cittadina sull'uso della magia all'interno della città quindi forte sospetto di omicidio a fini politici c'è chi ha detto che dietro tutto questo dovrebbe esserci la fa un fatal perché è uno dei troppo classici del noir però diciamo che questa è l'idea su cui dovete lavorare sul motivo per cui personaggi giocanti vengano coinvolti nell'indagine anche qui c'è stata fondamentalmente uniformità sulla decisione che siano per qualche motivo conoscenti parenti o soci in affari comunque collegati direttamente alla vittima c'è stata però un'ottima idea di indiana che ha deciso di sfruttare i toni paranormali della quest per invertire il troppo classico i giocatori saranno quindi sì conoscenti o collegati personalmente alla vittima ma sarà il fantasma della vittima stessa ad averli coinvolti nelle indagini per fargli scoprire chi è il proprio assassino che questo è un ottimo modo per puntare anche sugli elementi fantastici dell'ambientazione adesso che gli elementi fondamentali del racconto sono stati definiti dobbiamo passare alla progettazione vera e propria e linee narrative da un'analisi di quali sono gli elementi le linee narrative che ci serviranno saranno fondamentalmente due la prima è sicuramente quella dell'indagine dei giocatori ovvero tutti i passaggi che ci saranno dal momento in cui loro vengono ingaggiati dal fantasma per risolvere l'omicidio fino al momento in cui scoprono chi è il colpevole e lo consegnano alla giustizia o comunque in qualche modo faranno giustizia e porteranno a termine la storia il racconto giallo normalmente segue una sua specifica variazione della struttura narrativa in tre atti ne abbiamo già parlato approfonditamente per chi dovesse ancora recuperare i video ve li lascio linkati qua sopra nel racconto giallo il primo atto è quasi sempre destinato alla presentazione del delitto stesso e dei possibili indiziati il secondo atto sono le indagini raccolta delle indizi interrogatori dei testimoni comunque il modo in cui i personaggi raccolgono le informazioni e il terzo atto è la risoluzione dei conti la scoperta di chi è il colpevole e i protagonisti portano in qualche modo giustizia lo arrestano lo uccidono lo smascherano a seconda del genere di racconto quasi sempre la metà del secondo atto è una falsa sconfitta in cui i protagonisti scoprono che manca un qualche elemento fondamentale per le loro indagini per smascherare il colpevole e il secondo atto e il terzo atto sono collegati da un colpo di scena che rivela un indizio fondamentale per scoprire l'identità dell'avversario dell'antagonista di chi ha commesso il delitto nel caso del nostro racconto poi abbiamo evidentemente una seconda linea narrativa che è quella del delitto stesso ovvero sia i fatti che hanno portato alla morte del fantasma e che i giocatori dovranno scoprire per risolvere l'omicidio questa linea non deve seguire la struttura in tre atti del racconto anche perché i giocatori non ci interagiranno mai direttamente saranno informazioni che loro devono scoprire però dovrebbe essere strutturata in modo da essere funzionale all'indagine dei pg detta in parole povere la linea narrativa del delitto deve essere scritta in modo che sia interessante per i giocatori scoprirla e probabilmente deve avere dei colpi di scena che possano confondere le indagini dei giocatori ovviamente le linee narrative potrebbero essere molte di più se volessimo espandere questa storia per farla diventare una saga o un'intera campagna ognuna delle fazioni potrebbe avere la sua linea narrativa orizzontale o magari ognuna delle fazioni potrebbe avere più png importanti che vengono coinvolti e le indagini ognuno con una propria linea narrativa orizzontale dovendo cercare di fare qualcosa di più compresso nel nostro caso ci limiteremo a usarne due in un'altra quest come potrebbe essere quella che voi scrivete per il vostro gruppo ovviamente le linee potrebbero essere anche di meno una quest molto semplice e molto corta potrebbe avere una singola linea narrativa dedicata all'antagonista principale e nient'altro di nuovo nel nostro caso le linee narrativa orizzontali dedicate ai personaggi giocanti probabilmente non avranno grande influenza una volta che la quest sarà portata al tavolo i personaggi sono coinvolti perché come abbiamo già detto conoscevano direttamente il fantasma e il fantasma quindi gli ha chiamati ad aiutarlo però essendo una storia relativamente corta è difficile che ci saranno chissà quali sviluppi sui personaggi stessi una quest molto più lunga una saga e sicuramente in una campagna le linee narrative dei personaggi giocanti diventano sempre più importanti in una campagna molto lunga potrebbero essere le uniche linee narrative orizzontali rilevanti all'interno di tutta la campagna ovviamente una volta che la quest sarà portata al tavolo dovrà essere compito del master fare in modo che anche le linee narrative dei singoli personaggi diventino comunque una parte importante della narrazione se ce n'è bisogno bene adesso la palla torna nuovamente a voi come sempre scrivetemi qua sotto il video quali sono le vostre proposte per le due linee narrative orizzontali della nostra quest questa volta probabilmente l'esercizio è un attimo più difficile perché dobbiamo cominciare a prendere in considerazione gli aspetti tecnici della scrittura e non si potrà più scrivere semplicemente a ruota libera come le idee vengono non cercate quindi di strafare di buttare elementi troppo complicati limitatevi a fare le vostre proposte su quali saranno gli elementi i punti fondamentali della trama e su come si collegano logicamente tra i loro a complicare la vicenda lo vedremo poi il mese prossimo quando inseriremo le linee narrative verticali e cominceremo a stabilire il railroad vero e proprio per adesso basta fondamentalmente un riassunto molto breve di quello che secondo voi sarà la storia di nuovo non preoccupatevi se non vi vengono tutte le idee su qualcosa non vi convince o meno come sempre il risultato finale sarà un collage di tutte le idee quindi anche se voi avete un'ottima idea per la linea narrativa del delitto ma non per quella delle indagini limitatevi a scrivere quella del delitto la linea narrativa delle indagini verrà presa da qualche altra parte e ovviamente se vedete delle idee che vi sono piaciute mettetegli like perché come questa volta chi riceverà più like sarà quello che verrà scelto per primo per quanto bisognerà mettere assieme tutte le idee ovviamente se avete domande e dubbi perplessità scrivete anche quelle nella sezione dei commenti ringrazio tutti quelli che parteciperanno alla rubrica perché di nuovo senza di voi questa rubrica non ci sarebbe come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video